Ma tu ci avevi pensato? Cosa? A che cosa l'identità? Boh, no, non lo so, io ho questa, cioè mi identifico con questa, ma non ho mai seriamente pensato a che cosa l'identità. Identità è amare se stessi amando le proprie radici. L'identità mi paesce la cultura. Per me l'identità è mia ciasa e mia famiglia. Identità non è neanche un concetto che può scrivere come una parola. Da me ho altri tipi di identità. Il primo luogo di identità per me è l'identità culturale, che vuol dire il luogo dove sono nascita, come si riuscita e come si tradiziona. Per me l'identità è la mia famiglia e la mia famiglia. L'identità per me è conoscere le loro racine, comprendere chi sono. Per me l'identità non è l'identità nazionale. Per me l'identità non è la mia famiglia, ma non è la mia famiglia, ma non è la mia famiglia e conoscere le loro tradizioni. Per me l'identità non è la mia famiglia, ma non è la mia famiglia, ma non è la mia famiglia e conoscere le loro racine. Per me l'identità non è la mia famiglia, ma non è la mia famiglia.